C'è paura a Castelvetrano che l'ospedale Vittorio Emanuele II possa essere chiuso. Il Comitato Orgoglio Castelvetranese, a seguito delle recenti notizie riguardanti la riorganizzazione imminente della rete ospedaliera regionale firmata dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, denuncia un possibile e forte ridimensionamento del nosocomio. Ha dunque deciso il Comitato di far sentire la propria voce, proclamando per sabato prossimo 21 luglio una manifestazione pubblica, una vicenda sulla quale, fanno notare oggi quelli del Comitato Orgoglio Castelvetranese, non ci possono essere bandiere o separazioni, non ci possono essere partiti o movimenti, simpatie o antipatie, retropensieri o boicottaggi. Questa, affermano i componenti del Comitato Orgoglio Castelvetranese, deve essere una battaglia unitaria di tutto il territorio, una battaglia che coinvolga tutti, che dimostri che questa comunità sa essere unita per la difesa di un bene indispensabile, di un presidio che salva vite umane e che rappresenta un punto di riferimento per oltre 100.000 persone di tutta la valle del Belice.